Siamo a Padova, siamo a Praglia, siamo alle DOCG Wine Experience, ma naturalmente non solo vino. Qui vediamo tra l'altro un bellissimo banco di assaggio, potremmo dire, che ospita formaggi, confetture, affettati e quant'altro. Le vostre tradizioni, perché voi siete un piccolo, ma direi fornitissimo supermercato, che punta proprio sulla qualità, ma soprattutto sullo scovare delle particolari produzioni. Giusto, giustissimo. Siamo con? Allora, noi siamo una piccola azienda, siamo i Venturini, abbiamo due punti vendita nella zona. Due numeri? Mi chiamo Elisa, piacere, chiedo scusa. Sì, allora, noi oggi siamo qui, stiamo presentando la nostra riserva di parmigiano, un 66 mesi, che è più visibile, quasi rara da trovare, e un 42. Proprio riflettiamo, 66 mesi, ragazzi, quando voi andate negli altri supermercati, cosa trovate? 12 mesi, 18 mesi al massimo, 66 mesi, dove li trovate? Abbiamo la ricerca, noi facciamo questo, cerchiamo di dare il massimo di quella che è la nostra passione. Oltre a questo, abbiamo anche il grande di capra e di pecora, oggi come assaggio, e molto altro. Naturalmente si possono fare gli abbignamenti con queste confetture, mostarde, olie, e tutto ciò che può essere abbinato al formato. Che bello a casa, quando siano amici, un buon bicchiere, si prepara un tagliere, si mettono dei formaggi, no? Con queste chiacchiere si passa la serata in modo perfetto.